Il libro è un po' una raccolta anche istotica, quindi ci permetterà di discutere anche e di parlare. Poi finisce il mese e inizieremo a novembre. A novembre ci saranno delle novità, voi li vedete. Si inizierà il 4 di novembre con i 49 anni dell'alluvione di Grossetone e ci sono dei libri scritti da Pila dell'Hotella, ci sono bianciati, c'è un altro libro scritto da Bottinelli, ci sono testimoni anche di una certa età, 49 anni era lui, e non c'era i miei, pensate un po', c'era nemmeno lui. Quindi sarà un modo di celebrare. Quello è il 66, la successiva settimana. L'argomento sarà un argomento abbastanza particolare, si parlerà della caccia, caccia in maremma ma anche protezionismo, naturalismo. Ci saranno cacciatori e non, anche quelli della lab, quelli che lottano, vegani, ci sarà di tutti. Io ho dato, ho fatto un po' un escursus, te spero che non mancherai, per totto ci sarai.